Ben trovati all'ultima edizione del nostro telegiornale. La coalizione progressista che ha portato alla vittoria a Campobasso può essere il modello di riferimento anche per la conquista della regione. A due mesi dall'elezione Maria Luisa Forte traccia un primo bilancio della sua esperienza. La sindaca di Campobasso affronta anche il tema scuola. I ragazzi della Dovidio inizieranno nella sede attuale il proprio anno scolastico poi lo spostamento in altro sito. Maria Luisa Forte interviene anche sul tema carceri. Sarei favorevole dice allo spostamento dell'attuale penitenziario del capoluogo e alla riqualificazione dell'immobile. Sentiamo Pasquale Di Bello. Quelli passati da Maria Luisa Forte sono stati per dirla con l'epistolario leopardiano due mesi di studio matto e disperatissimo. Per la neosindaca di Campobasso luglio e agosto infatti sono trascorsi ad affinare le linee programmatiche sposte in campagna elettorale integrate con l'apporto del cantiere civico alleato che si è aggiunto nella fase del ballottaggio. Allora sono stati due mesi di lavoro intenso anche perché ho dovuto appunto conoscere l'amministrazione tutto l'apparato dell'amministrazione comunale che appunto mi ha adesso permesso insieme alla maggioranza, insieme alla giunta di elaborare le linee programmatiche che poi rispecchiano quello che avevamo detto in campagna elettorale. Ovviamente le mie linee programmatiche hanno ricevuto il contributo della coalizione del cantiere civico che appunto è ormai nella nostra maggioranza. Rimane fondamentale e sostanziale l'idea dell'inclusione, di lavorare per una città appunto delle contrade dei quartieri e del centro storico e murattiano e che non lascia indietro nessuno. L'esperimento prodotto dal fronte progressista a Campobasso può valere da modello di riferimento per gli appuntamenti elettorali futuri, dice la sindaca e il pensiero va alle regionali del 2028. Bene il campo largo, dice Maria Luisa Forte. Questo campo largo che ha visto le forze progressiste, il Movimento 5 Stelle e poi anche il contributo del cantiere civico che comunque si colloca in un'area progressista, si è dimostrato vincente. Quindi io credo che questa coalizione, questa maggioranza che adesso amministra la città di Campobasso darà una buona prova di sé e quindi potrà essere un'idea per riproporla delle altre competizioni elettorali. Uno dei temi caldi della campagna elettorale è stato quello delle scuole, in particolare il futuro degli alunni della scuola Dovidio. Al momento l'anno scolastico inizierà nell'attuale plesso, poi lo spostamento, dice la sindaca, ancora da valutare la nuova sede. Tra qualche giorno con l'isola scolastico i ragazzi da Dovidio andranno nella loro scuola, nelle loro sedi, quindi nella sede principale della Dovidio e poi nelle altre sedi. Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, quelle che stiamo ricostruendo in via Berlinguer in via Tiberio andranno in via Berlinguer, in un edificio che sarà pronto alla fine del mese di settembre. Quindi vedremo appunto con l'inizio dell'anno scolastico, stiamo valutando diverse ipotesi per poi il trasferimento dei ragazzi della Dovidio, ma parlo soprattutto della scuola primaria e del primo grado, per poi cominciare i lavori a Dovidio che non cominceranno comunque prima di gennaio-febbraio 2025, quindi abbiamo tempo per prospettare diverse soluzioni. Sul piano nazionale uno dei temi che ha animato la recente stagione politica è stato quello delle carceri e della necessità di nuove strutture. Sarei favorevole allo spostamento dal centro della città dell'attuale penitenziario, dice la sindaca. Se ci sarà un'interlocuzione con l'amministrazione penitenziaria, se si penserà a una dislocazione del carcere di Campobasso, sicuramente noi collaboreremo, anche perché quella è una bellissima zona centrale di Campobasso, quindi potremmo farci un pensiero. In programma per il prossimo 21 settembre, inizio d'autunno, una serie di eventi all'interno del centro storico della città, annuncia la Forte, sottolineando l'importanza che l'amministrazione assegna al vecchio borgo antico. Si terrà il 17 settembre a Roma al Ministero la riunione di aggiornamento sulla realizzazione della Gigafactory di Termoli da parte di ACC, convocata dal ministro Adolfo Urso, coinvolgerà i rappresentanti delle aziende interessate, la Regione Molise e i sindacati di categoria. Il tema Gigafactory è stato affrontato anche in Consiglio Comunale a Termoli. Sentiamo il servizio di Marta Martino. Dopo l'uscita dei dati che attestano un calo ovunque delle auto a batteria, tranne che in Cina, le case automobilistiche hanno rivisto i loro programmi. Per ora si parla di rinvio dei piani, ma i dubbi sono molti. Una situazione che ha portato dubbi anche per il progetto di Stellantis, sia per la riconversione a Gigafactory dello stabilimento di Termoli. La scorsa settimana l'ultimatum di Adolfo Urso al Colosso dell'Automotive ha provocato un coro di reazioni. Il ministro delle infrastrutture del Made in Italy ha convocato per la mattina del 17 settembre una riunione di aggiornamento sulla realizzazione della Gigafactory di Termoli da parte di ACC. La riunione, dopo quella dell'11 giugno scorso, si terrà a Roma al Ministero e coinvolgerà i rappresentanti delle aziende interessate, la Regione Molise e i sindacati di categoria. L'incontro avrà l'obiettivo di chiarire i tempi per la riconversione dello stabilimento per la produzione di batterie per i veicoli elettrici e cosa fare per mantenere i livelli produttivi del sito di Termoli. Intanto il Consiglio Comunale della città adriatica, in una seduta movimentata, ha approvato un ordine del giorno che di fatto impegna Sindaco e Giunta a seguire tutta la vicenda di Stellantis 6CC e della costruzione della Gigafactory. E proprio in relazione all'andamento del processo di elettrificazione, ACC sta aggiornando il progetto della Gigafactory di Termoli, così come quello in Germania, per introdurre nel processo produttivo una nuova promettente tecnologia per la produzione di celle e moduli. Da fonti aziendali si apprende che ACC comunicherà un nuovo piano industriale che riguarderà anche l'Italia nei prossimi mesi. Il dialogo tra ACC, Ministero e Invitalia non si è mai interrotto per continuare da una parte a favorire un progetto industriale così strategico e al tempo stesso tutelare le risorse del PNRR, è scritto in una nota di ACC. In questi video che adesso vediamo e che ci sono stati inviati da un nostro telespettatore possiamo appunto vedere il forte temporale con Grandine anche che si è abbattuto in provincia di Isernia, pioggia un po' ovunque in Molise. Le immagini nello specifico si riferiscono al tratto tra Civitanova del Sannio Chiauci e Pescolanciano sulla Trignina. Diversi poi gli automobilisti che hanno scelto di fermarsi in galleria oppure sotto i ponti o le pensiline delle aree di servizio per evitare l'acqua forte e la Grandine. Ecco, vedete appunto le macchine ma anche i camion fermi per poi rimettersi in viaggio per precauzione proprio perché la pioggia era molto forte e anche la Grandine si è abbattuta sulla strada, in particolare in questo tratto della provincia di Isernia. Avete appunto le macchine che iniziano a uscire dalla galleria dopo essersi fermate. E nel primo pomeriggio di oggi disagi sulla Trignina anche tra i territori di Montemitro e Tufillo a causa però di un incendio che ha interessato la vegetazione nelle campagne della zona. Traffico in tilt per un po' di tempo, disagi dovuti al fumo e alla poca visibilità. È stato richiesto l'intervento dell'elicottero regionale Orso Bruno che vedete in queste immagini. Sul posto i vigili del fuoco di Vasto e una squadra antincendio boschivo di Lanciano. Oltre alla protezione civile la situazione durante il pomeriggio è poi tornata regolare. I presidenti della regione del Consiglio regionale Roberti e Pallante hanno incontrato in Albania il presidente della Repubblica Begai. Fondamentale è stato detto mantenere e rafforzare legami solidi e stabili. Sentiamo. Due territori legati da secoli, Albania e Molise, l'Arbresh, che si parla a Campomarino, Ururi, Portocannone e Montecilfone, comuni fondati dagli albanesi. La cooperazione dei diversi territori è importante, ha ribadito il presidente della regione Francesco Roberti dopo l'incontro avuto a Tirana con il presidente della Repubblica dell'Albania Bairam Begai. Con lui in visita istituzionale il presidente del Consiglio regionale Quintino Pallante, il sindaco di Montecilfone Giorgio Manes e una delegazione molisana. Dal canto suo Begai ha evidenziato quanto sia fondamentale, considerati i rapporti storici, culturali ed economici, rafforzare le relazioni bilaterali per consolidare prospettive anche innovative nell'economia, nella cultura, nel settore turistico. È stato un confronto costruttivo, ha detto Francesco Roberti, sull'importanza di rafforzare gli scambi economici, avendo bene in considerazione la rilevanza delle imprese italiane che già da tempo investono e lavorano in Albania. Il presidente della regione ha ricordato che il Molise è stato attento a consolidare la cooperazione con l'Albania, collaborando, e una programmazione che possa portare benefici a entrambi i territori sotto diversi profili e diversi settori. La presenza all'incontro anche del sindaco di Montecilfone, Manes, e di quanti mantengono stabili relazioni con l'Albania è testimonianza di come sia di strategica importanza continuare a organizzare scambi culturali che, è il pensiero espresso da Roberti, rappresentano momenti di crescita, sviluppo e consolidamento delle proprie radici e tradizioni. Lasciamo perdere le discussioni sul campo largo e concentriamoci sui problemi reali dei cittadini, sanità, lavoro, trasporti, ambiente. A dirlo è il segretario regionale di sinistra italiana Vincenzo Notarangelo, che interviene nel dibattito politico con chiaro riferimento alle scelte che dovrà effettuare la coalizione progressista. Sentiamo ancora Pasquale Di Bello. Prove tecniche di regionali. Potrebbe essere questo il titolo del film già in onda nelle sale cinematografiche del centrosinistra molisano. Del resto la tempistica è questa. Chiunque voglia centrare l'appuntamento della primavera estate 2028 è adesso che deve partire. Sembra averlo capito bene il segretario regionale di sinistra italiana Vincenzo Notarangelo, la cui attività di stimolo e riflessione va tenuta in seria considerazione per chi dalle parti dei progressisti volesse ambire alla successione di Francesco Roberti. Notarangelo nella sua ultima nota diramata alla stampa pone una riflessione sul tema del campo di azione, quel campo largo che talvolta per via dei veti incrociati ha fatto il paio col campo santo e che in altri, tanto erano i miraggi e le fantasie, ha fatto coppia col campo dei miracoli dove Pinocchio, truffato dal gatto e dalla volpe, ha seminato i propri zecchini d'oro. Nell'uno e nell'altro caso il risultato è stato catastrofico. Basta parlare di campi, questa è la sintesi del pensiero di Notarangelo, ma parliamo di temi concreti, sanità, lavoro, trasporto, ambiente. All'arrogante vuoto di una destra elitaria, reazionaria e incapace, dobbiamo rispondere, dice testualmente Notarangelo con una politica intelligente, concreta, cazzuta. In attesa che Notarangelo chiarisca il senso e soprattutto l'estrinsecazione pratica dell'ultimo aggettivo, va detto che su tutto il resto la posizione del segretario regionale di sinistra italiana, che viene da Larino, è identica e precisa a quella del segretario nazionale Nicola Fratoianni, che invece quanto ha origini viene da Ururi. Le destre possono essere battute solo se la sinistra tornerà a fare la sinistra occupandosi dei problemi reali dei cittadini, questo l'assunto. Memore dell'appello di Nanni Moretti, quindi Notarangelo dice cose di sinistra e le dice ai propri alleati. Bisognerà capire se i suoi ragionamenti verranno intesi dal PD, partito neodemocristiano, e dal Movimento 5 Stelle, che spingendosi a sinistra della sinistra finirà come profetizzato in altro contesto da Pino Rauti per sfondare a destra. Una suora di 84 anni è stata derubata della borsa questa mattina a Isernia, a pochi metri dall'ex lavatoio nei pressi dell'ufficio postale, vicenda che è stata denunciata anche sui social da alcuni cittadini e che sta facendo montare lo sdegno nel capoluogo di provincia. Le indagini sono affidate alla polizia. A 22 anni dal terremoto che colpì il Molise nel 2002, la ricostruzione a Bonifero è ancora incompleta con numerosi progetti rimasti al palo, fermi a sostenerlo. Il Comitato dei cittadini terremotati del paese è composto principalmente da proprietari ed immobili coinvolti nei progetti di edilizia unitaria che ha inviato una lettera al Consiglio regionale, ai gruppi politici e all'Agenzia regionale per il sisma denunciando appunto gravi ritardi nei lavori e l'abbandono di molti cantieri. Sentiamo i dettagli nel servizio. Hanno denunciato gravi ritardi nei lavori e l'abbandono di molti cantieri a Bonifero per la ricostruzione post-sisma del 2002, il terremoto di San Giuliano di Puglia. A farlo sono stati i cittadini che hanno subito danni da quel sisma, proprietari di case coinvolte nei progetti di edilizia unitaria e che fanno parte di un comitato. Hanno scritto una lettera al Consiglio regionale, ai gruppi politici e all'Agenzia regionale per il sisma. A 22 anni da quel terremoto hanno spiegato la ricostruzione a Bonifero, uno dei centri più colpiti e ancora incompleta, con numerosi progetti rimasti al palo. Nonostante a San Giuliano di Puglia l'epicentro del sisma con le vittime, i lavori siano stati completati con infrastrutture e servizi di alto livello, hanno rimarcato nella missiva, le amministrazioni locali dei paesi limitrofi, come appunto Bonifero, sono state lasciate a gestire autonomamente la ricostruzione, spesso senza le competenze necessarie. Il comitato, nella lettera, ha parlato di mancato coordinamento e controllo da parte della politica nazionale e regionale che, è scritto testualmente, ha portato a una situazione in cui molti progetti sono stati affidati a professionisti e aziende senza esperienze. con il risultato che le abitazioni più modeste e meno redditizie sono state trascurate. Sempre secondo il comitato, molte abitazioni, specialmente nel centro rurale di Bonifero, sono rimaste incompiute, creando un forte contrasto con i nuovi edifici costruiti, di cui la richiesta di un intervento deciso delle istituzioni. Il sindaco di Bonifero, Nicola Montagano, ha annunciato una ricognizione dei progetti rimasti fermi per capire il perché dei ritardi, assicurando che saranno prese misure per completare i lavori entro i tempi previsti. Il termine fissato dall'Agenzia regionale post-sisma per chiuderli è dicembre 2024, ma con 250 interventi ancora in sospeso in Molise. Emergenza idrica e siccità, il Molise sostiene col diretti regionale, è considerata una regione ricca di risorse idriche, ma i cambiamenti climatici stanno mettendo in grave difficoltà il settore primario. A ciò si aggiunge il fatto che si cede una parte considerevole di acqua a regioni limitrofe, alla Puglia, alla Campania, all'Abruzzo. Sarebbe utile e giusto, continua col diretti, che i molisani potessero sapere quanti e quali ristori spettino al Molise col diretti. Molise, pur restando convinta che l'acqua è un bene comune a cui debbano poter accedere tutti e non possa essere venduta, ritiene che la politica debba poter gestire con il coinvolgimento di diversi attori interessati la questione in modo da trarre un giusto ed equo beneficio a favore della collettività regionale. E' stata chiesta l'archiviazione delle indagini per l'incidente del 4 luglio 2021 in cui persero la vita Maurizio Tortola e Rossana Di Noia, i due fidanzati di Isernia, deceduti in sella alla loro moto lungo la statale 83 Marsicana. Secondo la procura di Sulmona non ci sono ragionevoli previsioni di condanna per l'automobilista di 49 anni di Campobasso indagato per omicidio stradale. I dettagli nel servizio di Davide Gambardella. Lo scorso mese di febbraio attraverso i loro legali avevano lanciato un appello alla procura affinché il caso non venisse chiuso. La doccia fredda per i familiari di Maurizio Tortola e Rossana Di Noia, i due fidanzati di Isernia morti in moto nel 2021, è arrivata ieri. È stata infatti chiesta l'archiviazione delle indagini per l'incidente in cui i due giovani persero la vita sulla statale 83 Marsicana, in territorio di Villa e Tabarrea. Il sostituto procuratore della Repubblica di Sulmona, Stefano Giafolla, ha infatti richiesto l'archiviazione del procedimento a carico di un uomo di 49 anni di Campobasso, ritenendo che non ci siano ragionevoli previsioni di condanna nei confronti dell'indagato. La tragedia si consumò in una manciata di secondi in un maledetto pomeriggio di luglio. L'Audi A4, guidata dal 49enne, si scontrò frontalmente con la moto Ducati su cui viaggiavano i due giovani sernini, che morirono sul colpo a causa dei gravi traumi riportati nell'impatto. Secondo quanto emerso dalle indagini, l'auto si è spostata sul lato destro della carreggiata, non riuscendo ad evitare i due motociclisti che si sono scontrati contro l'auto, subendo lessioni gravissime. Le indagini preliminari durante oltre due anni sono state oggetto di grande attenzione anche da parte dei familiari delle vittime. Per Marco Bevilacqua, avvocato del Foro di Chieti, che rappresenta le due famiglie sernine, si tratta di una conclusione che aggiunge dolore al dolore. Ed è per questo che è stato chiesto al giudice di tener conto anche di altri elementi, che potrebbero risultare determinanti per far luce su quel drammatico incidente. L'associazione Malatesta di Campobasso ha denunciato di aver subito una censura dalla RAI quando l'intervista prevista a 1 mattina è saltata perché l'intervistata aveva una maglietta con i colori della Palestina. La stessa associazione ha organizzato un sit-in di protesta per la libertà di informazione e di espressione venerdì alle 18.30 davanti alla sede RAI di Campobasso. Europa Verde Molise ha parlato di vile episodio. Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Angelo Primiani, in una nota ha definito grave quanto accaduto e lesivo dell'articolo 21 della Costituzione. Non ritengo, ha detto, un disegno con i colori della Palestina motivo sufficiente per impedire un collegamento in TV o su qualsiasi altro media che faccia del pluralismo la propria ragione d'essere. Primiani ha dichiarato di aver già preso contatti con portavoce 5 Stelle in Parlamento per predisporre un'interrogazione alla Commissione di Vigilanza RAI. La ristorazione collettiva sostenibile di qualità nell'ambito del bando menze scolastiche, questo è il tema, al centro dell'incontro che si è tenuto a Termoli. I relatori si sono confrontati su come migliorare l'alimentazione per fare prevenzione, per creare una filiera corta per le produzioni locali. Ce ne parla Andrea Nasillo. La ristorazione collettiva sostenibile di qualità, il bando menze scolastiche 2024, tema al centro dell'incontro che si è tenuto ieri a Termoli. Un'iniziativa promossa dall'autonomia locale italiana che ha visto la partecipazione dei presidenti delle province di Campobasso e Isernia, Pino Pucchetti e Daniele Saia, nonché dei sindaci dei due capoluoghi di provincia, Maria Luisa Forte e Piero Castrataro e Di Mariella Vaino, assessore comunale di Termoli alle politiche sociali. Un nuovo modo di concepire il servizio e una nuova essenza, come si deve migliorare l'alimentazione per creare prevenzione e per fare filiera corta per le produzioni locali. Siccome c'è un bando nazionale finanziato dal PNRR per i comuni che devono presentare domanda che scade a settembre, abbiamo pensato di organizzare un momento e un movimento di sensibilizzazione, un gruppo di lavoro per arrivare in Molise ad accettare un protocollo intesa. I principali comuni ci sono, Lega Autonomie e Ali è il soggetto che aggrega i comuni e ci sono anche le principali imprese e rappresentanze delle imprese. Dobbiamo lavorare tutti insieme per migliorare la qualità dei cibi per fare politiche territoriali per l'ambiente, per l'economia e per il sociale. La mensa vorremmo farla partire il prima possibile per venire incontro alle esigenze di tutte le famiglie e ci sono già tante richieste, quindi abbiamo aperto le iscrizioni settimana scorsa. Il 29 è un incontro con tutti i dirigenti scolastici, quindi pensiamo il 16 o al massimo il 23 di far partire il servizio mensa. Oltre a Michela Fanelli, vicepresidente nazionale di Ali, c'erano la responsabile regionale Bibiana Chierchia, Riccardo Terriaca, presidente regionale di Conf Cooperative, Chiara Iosso è al vertice di Lega Coppi in Molise e le conclusioni affidate al segretario generale Anier Conf Industria, Paolo Valente. Spesso non si capisce la complessità con cui questo sistema di produzione e servizio del cibo viene fornito. Qui ho trovato una realtà abbastanza, oltre che vivace, anche molto interessata. Si stanno delineando dei profili e delle scelte che le amministrazioni stanno facendo anche di tipo molto interessante e direi anche pioneristico. La volontà di parlare tra i comuni e tra gli altri soggetti, diciamo, degli enti locali come le province addirittura per arrivare a definire un'attività di polisi unica per far sì che Molise, così come fanno altre realtà regionali, si doti di una propria legge o di una propria linea guida, mi sembra una cosa incomiabile. Isernia è l'unico comune del Molise a rientrare nell'elenco dei beneficiari dei contributi legati al Fondo per le Mense Biologiche, come certificato dall'intesa in conferenza unificata ANCI, Associazione dei Comuni. Le scuole dell'infanzia e primarie di Isernia usufruiscono di un servizio improntato alla sostenibilità con la completa eliminazione della plastica e il ricorso alla filiera corta con prodotti locali. Il commissario dell'autorità di sistema del mare adriatico meridionale ha commissionato uno studio sui fondali del porto di Termoli. Si tratta di un intervento finalizzato alla sicurezza della navigazione, all'adeguato pescaggio delle barche e alla raccolta dei rifiuti. Ma si riaccende anche una luce di speranza sull'argomento progetto di sviluppo del turismo croceristico. Ancora Andrea Nasillo. Capire come sono fatti i fondali e cosa si può fare. Il commissario dell'autorità di sistema portuale del mare adriatico meridionale, Vincenzo Leone, ha commissionato uno studio proprio sui fondali del porto di Termoli. Prima di tutto ai fini della sicurezza della navigazione e di tutta l'area. E a supporto della successiva attività di rimozione dei rifiuti è fondamentale e seguire una caratterizzazione dei fondali, finalizzata alla conoscenza delle caratteristiche di queste profondità. Da anni si parla della necessità di intervenire, di capire che tipo di lavoro va fatto per migliorare la fruibilità del porto di Termoli. Questo studio in sostanza prepara un intervento successivo per garantire l'adeguato pescaggio alle barche, uno dei nodi sempre critici per il bacino portuale termolese e anche uno dei vincoli all'approdo di navi di medio tonnellaggio, soprattutto merci. Se non si interviene, e questo potrebbe essere il primo passo, resta frenato anche l'agognato progetto di sviluppo del turismo crocieristico. Di fatto l'autorità portuale vuole capire come sono fatti questi fondali e che ci sta per tutti questi scopi. È stato pubblicato oggi sul sito istituzionale del Comune di Campobasso l'avviso pubblico per la nomina di tre esperti per la Commissione DECO per la valorizzazione delle produzioni artigianali agroalimentari tradizionali locali, che avrà il compito di esaminare le richieste pervenute e proporre all'amministrazione comunale il disciplinare dei prodotti ai quali riconoscere la denominazione comunale DECO, che verranno poi iscritti nell'apposito registro. I dettagli sono sul sito del Comune e le domande possono essere presentate entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso. Il pubblico delle grandi occasioni a Boiano per il concerto di Piero Pelù, evento clou delle manifestazioni organizzate in città dall'Associazione Vivi Boiano in occasione delle Feste Patronali. Sentiamo Giuseppe Carriera. Un evento che va oltre il pubblico delle grandi occasioni a ascoltare Piero Pelù dal vivo in piazza con tutta l'energia di una band di super musicisti della scena rock, segna una pietra miliare nella lunga teoria di nomi eccellenti del panorama italiano, che nel corso degli anni si sono avvicendati sul palco di Piazza Roma a Boiano. Ancora una volta l'Associazione Vivi Boiano ha accolto nel segno centrando un nome che nel cuore di più generazioni. Nel pubblico ci sono tutte le generazioni a partire da coloro che nell'82 suonavano con il loro stereo, il primo EP di Lit Fiba, registrato in quella cantina di Via dei Bardi in cui Pelù è voluto tornare per registrare alcune delle tracce di Deserti, il suo decimo album da solista, che si inserisce in quella trilogia del disagio avviata già quattro anni fa con Pugili Fragili. Ma dati tecnici a parte, Piero Pelù sul palco ferma il tempo, gli anni non passano per un rocker pieno di energia che ha aggiunto le cuffie chiusche con il simbolo del corno cuore, alla pelle di stivali e cinture, nel suo consueto look a petto nudo. Dalla Puglia come dal nord Italia i fan di Piero Pelù macinano chilometri e non sentono il peso dell'attesa dell'aio. Precisamente dalle tre e mezza sto qui, finito di lavorare sono venuto qui aspettando che avvissero le tanzenne. Grazie a Boiano che ha dato anche questa opportunità, tra l'altro in piazza. Bravi. Ha un carisma così potente da poter scatenare i fan, ma anche chi lo segue poco a terra lì da pura, ecco. Energia vibrante nella band Luga Martelli dal 2012, sia con Elite FIBA che nei progetti solistici di Piero Pelù, ha un sound potente e aggressivo che riporta la lancetta dell'orologio gli anni d'oro del rock e del punk anni 80, un drumming che evoca l'energia dei live anni 80 e 90 di Pelù e Sochi. Al basso Max Gersi e le chitarre a Mudisafa, una soddisfazione immensa a fine serata per i vertici di Vivi Boiano. Vivi Boiano ha questa tradizione del concerto importante legato ai festeggiamenti in onori di San Bartonomeo, la piazza lo attende, la città lo aspetta e fortunatamente che anche quest'anno l'associazione Vivi Boiano ha dimostrato di avere grande coraggio e prendendo in prestito le parole di Gregorio altruismo, fantasia, sono davvero fantastici. Che stasera sia una festa vera per tutta la popolazione molisana e grazie alle sponsorizzazioni alla regione molisa, all'assessorato alla cultura, al comune qui di Boiano e alla popolazione che ci danno una mano con la lotteria a realizzare questi eventi. Si paga l'infinito e ruba gli unmii brutto dal mondo, a testare un castello volanti, con la fantasia amём parire la musica. Cante 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 A Isernia nel weekend arrivano i bersaglieri. È tutto pronto nel capoluogo di provincia per il primo raduno regionale dell'Associazione Nazionale. Dal 31 agosto al 1 settembre tante iniziative messe in campo nell'ambito del cartellone del settembre Isernino per celebrare il corpo militare. Un evento che noi abbiamo voluto fortemente e che grazie all'amministrazione comunale e gli assessori e il sindaco hanno reso possibile inserendolo anche nel calendario del settembre Isernino. Si parte dalla cerimonia di consegna e custodia del medagliere regionale Labaro del Centenario dei Bersaglieri di sabato pomeriggio davanti al municipio per poi passare a domenica mattina le celebrazioni in piazza Andrea Isernia con la sfilata della fanfara fino a piazza Celestino V. Una bellissima novità, un ringraziamento all'Associazione regionale per aver scelto Isernia. Quando ci è stata proposta la data e questo primo evento per noi è un onore. Abbiamo contribuito con felicità all'evento che ci sarà nei prossimi giorni e anche il riconoscimento verso chi con tanto spirito di servizio porta alto il valore del nostro paese, il valore dei nostri connazionali e che continua a servire la patria, in questo caso lo possiamo dire veramente con orgoglio. Bene è tutto, termina qui anche l'ultima edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito e arrivederci.